Dopo gara di Lioni Palmese, la Palmese vince questa gara importantissima, siamo con Antonio Quarracina, l'allenatore della Palmese. Allora mister, le ho detto che praticamente ritengo che alla fine è un risultato anche meritato della sua squadra, un primo tempo di contenimento dove praticamente la difesa non ha sbagliato assolutamente nulla, c'è stata anche qualche proposizione in avanti, ma poi la Palmese è venuta fuori nel secondo tempo con forza e con quel ragazzo a centrocampo De Simone che ha dettato i tempi e ho notato anche di ottimi mezzi. Partendo dalla considerazione iniziale sono d'accordo perché non possiamo pensare di avere una condizione ottimale, né tantomeno di essere già lucidi e di avere una brillantezza già alle prime partite. Come tutte le altre squadre abbiamo ripreso questa situazione e fortunatamente, con molto entusiasmo abbiamo ripreso questo nuovo campionato e quindi ci siamo tutti adeguati sia in termini di preparazione che in termini di mercato. Sono molto contento tra il dare e avere di quello che è stato fatto, purtroppo ci hanno lasciato ragazzi con i quali avevamo cominciato un discorso iniziale che però sono stati sostituiti validamente. Per fortuna, come tu dicevi, sempre per rimanere nella domanda, dico che De Simone ce lo siamo tenuti stretti anche perché aveva richieste sia ad altre squadre di eccellenza che di categoria superiore, ma lui è prima di tutto un ragazzo serio che io conosco da bambino, sono un grande amico del papà, quindi abbiamo deciso in estate di fare grandi cose insieme e speriamo di continuare così. Quanto in un format così, diciamo, in cui perdere punti può significare perdere l'occasione giusta, quanto è importante questa vittoria, peraltro su un campo e contro una formazione che veniva data per la maggiore? Sì, sì, noi siamo in un raggruppamento dove credo che squadre meno attrezzate non ce ne siano, tutte quante abbiamo, culliamo questo sogno, qualcuno con una rosa diciamo più altisonante in termini di nomi, ma io credo sono contento prima di tutto di quello che ho a disposizione e rispetto tutte le compagini di questo gruppamento, compreso il Lioni e ai miei ragazzi, già da martedì abbiamo parlato in termini di grande apprezzamento sia per la squadra iniziale che avevano che per il mercato fatto di grande livello. Immaginate che per quanto mi riguarda c'erano 3-4 giocatori, qualcuno che ho allenato e qualcuno che ho sempre cercato di portare dalla mia parte, quindi sono convinto che il Lioni farà ancora buone partite come quella che ha fatto oggi. Mister, per chiudere, offrirà una pizza a questi suoi tre ragazzi della difesa? Lei è uno specialista della fase difensiva, Taddeo, Patovano e Cuomo mi pare che hanno messo una diga là davanti e poi tutto è stato costruito. Credo che in generale abbiamo fatto una partita accorta e sapendo e conoscendo gli avversari studiata su determinati movimenti e atteggiamenti da tenere per contromosse all'avversario. Come quando vinciamo non è solamente merito di chi attacca, così quando non si prende con non è solo merito dei difensori. Fermo restando che Taddeo, Cuomo e Patovano sono giocatori che ho voluto io fortemente, sui quali credo, ma non sono gli unici perché abbiamo degli under di tutto rispetto nel ruolo, abbiamo Reik che è un 2000 che è un potenziale titolare, quindi insieme a tutti i ragazzi del reparto sicuramente sono una delle nostre forze. È chiaro che come tu dicevi De Simone io credo che vada elogiato anche il secondo tempo di Cacciottolo, la verve e la personalità di Cacciottolo, ma soprattutto la verve e la personalità dei fratelli Cozzolino che credo siano un lusso per questa categoria e io sono contento e onorato di allenarli. E la pizza? La pizza è d'obbligo ma non solo in questo caso, sono uno di larga manica, quindi i ragazzi lo sanno che mi metto a disposizione perché credo in questa forza che si crea oltre il campo nel gruppo e non è un luogo comune, non è retorica, credo nei rapporti umani oltre quelli professionali. Allora siamo con mister Salvatore Sicuranza, ovviamente il Leone si aspettava di iniziare in altro modo questo nuovo format del campionato di eccellenza. Devo dire Salvatore che il primo tempo la loro squadra si è proposta, ha tenuto in mano le retine del gioco, forse c'era bisogno di una maggiore velocizzazione in alcuni momenti, però poi arrivata all'area di rigore si è persa e non ha condilizzato tutto questo lavoro. Poi nel secondo tempo improvvisamente come fosse mancato qualcosa, forse anche un fatto nervoso, non so, tu come l'hai vista? Sì, in effetti concordo nell'analisi che hai fatto. Un primo tempo credo fatto bene, giocato bene, possesso palla, baricentro molto alto, credo che abbiamo messo anche in difficoltà la Palmese, poi nel secondo tempo stranamente ci siamo abbassati un po' troppo e complice qualche errore nel palleggio e ci siamo andati un po' in difficoltà e quello ci ha un po' messo ansia e un po' di paura e nel secondo tempo non siamo stati brillanti come nel primo, per cui abbiamo iniziato a fare errori semplici, appoggi facili e li abbiamo sbagliati, però penso che comunque alla fine se non ci fosse stata l'episodio del rigore credo che la partita sarebbe terminata 0-0 perché forse non avremmo meritata di vincerla, però sicuramente non avremmo meritata di perderla. Senta, ci siamo detti tante volte nel nostro interloquire, quanto è pesante non perdere punti in questo torneo così ristretto, nuovo, dove ovviamente pure un gol può significare qualcosa, insomma questa sconfitta quanto pesa? Ma sconfitta pesa perché in questa formula ovviamente partire in casa e non fare punti questo condiziona un po', però noi non dobbiamo farci condizionare da questa cosa, dobbiamo andare avanti e pensare già alla prossima e partire dal primo tempo dove c'è stata la prestazione, capire le ragioni per le quali nel secondo tempo non abbiamo ripetuto la stessa prestazione del primo tempo e poi ovviamente una settimana di lavoro in più, dobbiamo accelerare un po' alcuni recuperi e ovviamente non abbiamo nemmeno il tempo di pensare, dobbiamo immediatamente toglierci dalla testa questa sconfitta, ripeto, credo in meritata, forse non meritavamo di vincere, però in meritata la sconfitta su un episodio e dobbiamo pensare già alla prossima partita perché poi è chiaro che la prossima partita diventa una partita importante come tutte le partite che ci aspettano da qui in avanti.